Sono Valentina Cirri, lavoro nell'ufficio del personale di Tessil Forma S.P.A., l'azienda che ha creato il brand di Patrizia Pepe. Allora, per i giovani designer consiglierei innanzitutto di presentarsi al colloquio conoscitivo con un portfolio di lavori effettuati, in modo tale da poter spiegare all'azienda per la quale si propongono il loro mood board, l'ispirazione e la realizzazione del progetto. Studiare moda a Firenze per una persona creativa è sicuramente un vantaggio, dal momento che esistono molte aziende che lavorano nella moda, io ne rappresento una delle tante, appunto Patrizia Pepe, però ci sono anche tante altre opportunità in questo settore.